La posizione del partito che rappresento è molto chiara. Stamattina il segretario Letta ha detto che è l'ora che lo Stato si assuma la responsabilità dell'obbligo vaccinale e io personalmente sono anche d'accordo. Credo che sia giunto il momento che lo Stato si assuma anche la responsabilità dell'obbligo vaccinale. Per quanto riguarda le misure che vengono prese sui traghetti eccetera, io dico che le misure che prende il governo sono basate su indicazioni che vengono da un comitato tecnico scientifico. Ho sentito di opinioni contrarie da parte del consigliere Lanera. Io penso che sia io sia il consigliere Lanera non abbiamo gli strumenti per poter contrastare delle posizioni che vengono da chi ha una competenza assolutamente scientifica in merito. Penso che sia giusto che l'Isola d'Elba come tutto il resto d'Italia si adegui alle norme. Poi queste regole servono perché si possa riaprire, serve perché gli esercizi siano aperti, serve perché i nostri ragazzi possano andare a scuola eccetera. Quindi essere contrari all'utilizzo del Super Green Pass, alle norme che vengono utilizzate per le riaperture significa di fatto essere contrari anche alle riaperture. Forse è di questo che qualcuno dovrebbe rendere conto.